Cecilia Rodriguez si è raccontata sulle pagine del settimanale Vero. La modella ed ex naufroga dell'Isola dei Famosi, ha parlato brevemente della vita sentimentale di Belen. Tutto ciò che le sta a cuore è la felicità della sorella, dunque non giudica le sue storie d'amore. Quanto alla fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha ribadito che con il ballerino ha mantenuto ottimi rapporti. L'unica cosa che conta è che Belen sia felice, io non entro nel merito della sua storia d'amore. Con Stefano ho mantenuto ottimi rapporti, è papà di mio nipote e non ho certo divorziato da lui. Cecilia Rodriguez è innamoratissima del piccolo Santiago. Trascorre molto tempo con il nipotino. Gli dedico il mio tempo, cerco di entrare nel suo mondo. Gioco spesso con lui e a volte vorrei che giocassi a modo mio, ma poi sono sempre io a dovermi adeguare alle sue regole. Ha confermato, infine, l'intenzione di trasferirsi in America con Francesco Monte. Lì c'è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità. Così, il suo fidanzato potrà provare ad affermarsi come attore e lei come modella. Già in passato aveva annunciato questa loro intenzione. In Italia vanno avanti sempre i soliti e spesso ci sono pregiudizi verso chi ha fatto determinati programmi. Lui è svantaggiato per il fatto di aver partecipato a uomini e donne. Anche per questo pensiamo di trasferirci in America. Anche io, da modella, avrei più occasioni di lavorare perché rientro nelle loro taglie, mentre le modelle europee sono molto più magre. Chi se ne frega.